Oh Oh ma tutti lì arrivano Oh ma questo è bloccato Morii No Ma vaffanculo Sì Sì mi da mi da mi rigenera Oh io sto copando dal centro Io vengo Dovrei riuscire a venire da quella tua parte Sì vado Vado a mortare Vabbè finisci quello va Più piloti messi male Oh my god No 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 Fanculo Non sono messo bene Non sono messo malissimo No 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 shit Bella Dai 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 Oh my madonna dai 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 Una torretto offline Uh io devo andare là in fondo Mi sto smitragliando di qui ma porca di quella Io sto andando come Dai 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 Io sto cercando di smitragliarci in mezzo Oh 4 di 5 merda Bella Sì Bella hai preso la batteria Io continuo a reattivare Sì Bella sei MVP E io sono Dottieri Dottieri Vero minchia Un fottio di punti Allora Mi serve Dov'è Dov'è il mio titan? Come stai titan? Vediamo se ti metti in questo con una batteria Io Oh 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 my god oh oh fuck fuck me fuck oh oh droni droni mega plasma cazzo eh il problema è che sono stupide oh ma che ti fanno io sono ma fa' cura ossia dove gli altri mi uccidono tutti così faccio solo le esecuzioni mori 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 mamma mia mi sono tolto da una situazione sprecando ancora ma vabbè da una situazione deve essere un mio amico mi ha livellato tutti i titan non ho idea di cosa facciano le loro abilità bella ok bella oh fuck come va dai no nooo no 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 comment nooo ehhh mi va a fare a culo mga se le terrette fanno tutto il lavoro Sì e tutti i miei titoli non possono salire altri dati ma non c'è ma non sto facendo solo critici manna io la puttana e tutti i miei titoli stanno per cedere super concetti e io sto con il bietito rent up e io sto con il bietito rent up oh oh no non più 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 via bella bella via via ma via proprio cosa via? no dico io ero proprio quasi alle cosse oh oh mio dio bella sii bella sii dai tanto posso andare un po' di punti dai tanto posso andare un po' di punti esatto esatto questi qua non stanno più direttivi guardali guardali e guardati mobili ahahah oh mio dio dov'è ah ok ce l'hanno fatta viiii livello su livello su dove sono io ah e fai piovere proprio della serie non ti diamo un cazzo